qua eccoci qua arriva un altro venerdì un altro lungo e denso appuntamento del diamante numero 9 edizione 2022 si va verso un altro weekend densissimo purtroppo considerazione metti il naso fuori e vedi che le previsioni meteorologiche purtroppo non sono buone e credo di poter dire che ci siano diverse partite a rischio comincio per non poi dimenticarmelo che domani pomeriggio sabato 7 maggio dalle ore 15 la diretta del derby di besbo di serie B nazionale Padule Sesto e Fiorentino Fiorentina Besbo ore 15 e ore 20 e 30 navigheremo sul canale 194 lo dico e lo ripeto era la settimana prossima il 196 ci sono problemi di sovraccarico ci sono dei problemini tecnici qui interni al nostro capannone per cui siccome le partite di besbo durano 3 ore la prima e 3 ore la seconda di media tenere un canale solo impegnato come il 196 che è quello più carico di prodotti ci potrebbe creare qualche problemino a livello tecnico allora il calcio a 5 va sul 196 il baseball sul 194 allora come sempre ringrazio ovviamente FIPS.it il punto sul baseball statunitense in MLB comandano Yankees e Mets comanda la New York del baseball con le due new yorkesi in testa al campionato con 16 successi ma è il punto di metà settimana non sono riuscita ad aggiornarlo a ieri notte Yankees trascinate da Rizzo e Giugge i Mets completano il primo no hit dell'anno Splende anche Walker Buller dei Los Angeles Dodgers autore del primo complete game shout out del 2022 dunque New York è la protagonista della settimana appena trascorsa da una parte i New York Yankees di Anthony Rizzo 9 fuoricampi leader della MLB Aaron Giugge 8 fuoricampi di un monte di lancio davvero finora poco penetrabile o impenetrabile del tutto dall'altra parte l'altra franchigia new yorkese i New York Mets dei soliti Pete Alonso, Francisco Lindor, Max Schwerzer che continua a fare incetti di strike out e che in questa settimana ha fatto 2 su 2 vincendo anche domenica nonostante aver preso il fuoricampo di Schwaber 2 e Bryce Harper le due new yorkesi sono in testa al comando nella MLB gli Yankees 16-6 vantano il miglior record e sono redditi da 3 sweep consecutivi i sweep sono le doppie vittorie del weekend contro i Guardians lo scorso weekend e contro Orioles e Kansas City Royals in questa settimana 9 sono i successi di fila i Mets invece 16-7 sono primi in National League e vincendo domenica per 10-6 contro i Phillis viaggiano 11-12 sprofondati a 5 partite di distanza dal primato divisionale hanno fatto bottino pieno vincendo tutte le ultime 7 partite disputate da inizio stagione allora poi l'articolo completo lo potete trovare traslato pari pari www.firenzeviolasupersportlive.com la puntata numero 9 delle nostre produzioni del venerdì il diamante io vi dico solamente che la MLB è trasmessa in diretta sui canali Sky Sport sono andati il 5 maggio avete visto San Francisco Giants Los Angeles Dodgers il 5 maggio avete visto Los Angeles Angels Boston Red Sox questa sera 20.15 vedete Los Angeles Dodgers Chicago Cubs domenica 8 maggio mezzanotte Toronto Blue Jays Cleveland Guardians poi vi do i risultati delle ultime partite del campionato americano partendo dalla più recente allora San Luis Cardinal San Francisco Giants 7 a 1 in terreno di trasferta Tampa Bayloris che sono andati a vincere a Seattle sui Mariners 4 a 3 la vittoria dei San Diego Padres su Miami Merlin di stretta misura 2 a 1 la vittoria di Houston Astro sui Detroit Tigers 3 a 2 di 2 punti la vittoria di Baltimore Royale sui Minnesota Swings 5 a 3 la vittoria dei Mets a Philadelphia con i Phillies 8 a 7 la vittoria di Cleveland Guardians sui Toronto Blue Jays 6 a 5 poi se ci vogliamo mettere anche quelli del turno scorso allora vi dico che i Texas Rangers hanno battuto i Phillies in trasferta 2 a 1 che Baltimore Orioles ha battuto i Minnesota Twins 9 a 4 che i Toronto Blue Jays hanno vinto sui New York Yankees 2 a 1 una delle pochissime sconfitte degli Yankees che i Los Angeles Angels hanno vinto 10 a 5 raddoppiando sul terreno sul diamante dei Boston Red Sox 10 a 5 i Brewers di Milwaukee hanno battuto Cincinnati Reyes tanto a poco 18 a 4 che i Chicago White Sox sono andati a vincersi il derby con i Chicago Cubs 4 a 3 Colorado Rookies ha battuto Washington National 5 a 2 Los Angeles Doge San Francisco Giants 9 a 1 i Los Angeles Angels hanno battuto in trasferta i Boston Red Sox 8 a 0 poi Cincinnati Reds sconfitti da Milwaukee 10 a 5 e infine i Rookies di Colorado hanno battuto i Washington National 9 a 7 questi sono i risultati del baseball più bello che c'è andiamo e arriviamo in Italia dove dobbiamo andare a rileggere tutto ciò che è successo nel weekend scorso vi anticipo intanto andiamo con le notizie dell'ultima ora quello che succederà in questo weekend dove Cagliari 7 è il clou scontro in vetta bello sarà l'incontro di Bologna tra Uniposa e Bologna e Collecchio allora sarà un fine settimana importante per la lotta a secondo posto nei gironi A e C Collecchio e Mediolano Rimini provano a fermare da una parte l'Uniposa e Bologna dall'altra parte San Marino a riposo e il girone di D Spirurina-Vecagli Grosseto e BSC Grosseto penultima settimana prima fase in Sena di Beso che potrebbe essere fatidica per due degli ultimi tre posti da assegnare alla Pusco detto se da un lato la battaglia macerata nel Tuno 1945 Girone-Disti risolverà la settimana prossima la ripartenza del campionato nel girone nei gruppi A e C ma il tempo questo le previsioni ve lo dette permettendo è lotta aperta il weekend comincia proprio nel girone C allora vado a darvi i turni girone A questa sera venerdì mentre noi stiamo raccontandovi queste notizie San Marino-Mediolano-Rimini sul Titano sperando che il brutto tempo non crei problemi poi domani Parma-Clima, girone A, Parma-Clima, CM oltretornente, il derby di Parma Caglia di settimo, gara 1 alle 16 Ecco Term, Brescia, Campidonico, Torino ma si gioca il diamante inverso a Torino Domenica, Caglia di settimo, gara 2 alle ore 10 Poviglio, Senago girone B, sabato, domani, Unipos e Bologna, Came, Collecchio, il derby Emiliano credo sia la partita più di grido Verona, Cervignano, Domenica, Metalco Dragons, Caster Franco Veneto Ronchi dei Legionari, Mutua Rovigo Padova, girone C domani San Marino-Mediolanum-Rimini, gara 2 si gioca alle ore 15 Godo-Longbridge, Domenica Sala Baganza, Concor Modena e Torre Pedrera-Falcons Farma-Crocetta Le classifiche nel girone A, domina Parma-Clima, 10-0 a mille Settimo e la seconda meglio piazzata, 6-3 a 6-6-7 Nel girone B, Unipos e Bologna, 10-0 a mille Came, Collecchio, 9-1 900 Rovigo Viaggia staccato, a 500 Nel girone C, San Marino punteggio pieno, 10-0 a mille Godo, 8-2 800 Concor Modena, 7-3 700 Nel girone D, che non gioca questo weekend Spironina-Vecagli-Grosseto, 7-1 Ha perso la gara, la gara 1 con il BSC Grosseto 875 Macerata, 6-2 7-50 Nettuno 1-945 5-3 a sorpresa 625 Lodi Palline da giocoliere E Ponte di Mazze Per il BBC Big Mat BSC Grosseto Che viaggia 4-4 500 Si è elevato alla soddisfazione negli ultimi weekend di vincere gara 1 nel derby dello Scarpelli Con il fuoricampo, l'ultima pallina di Diaz-Diaz contro i cugini della Spironina E sabato prossimo sono andati a vincersi gara 1 allo Steno Borghese di Nettuno 3-2, vincevano a un certo punto 3-0 E dunque Parma Clima nel girone A Unipolsa e Bologna E Camo e Collecchio nel girone B Spirolina Becagli Nel girone D sono già qualificate Con due turni di anticipo Per la Pusco Dette Le risultanze dell'ultimo turno Pesante le doppiette Per Spirolina Becagli Grosseto Macerata e settimo Impattano Cagliari e Senago Ma anche Nettuno 1945 Big Mac Grosseto Ripeto gara 1 3-2 Grossetano Vincevano i Grossetani 3-0 Dunque Spirolina Becagli Grosseto Parma Clima Unipolsa e Bologna Collecchio Sono qualificate come detto e lo ripeto Alla fase finale Pusco Dette Le doppiette Ci sono state Per Ossen Macerata e settimo Il Cagliari Pareggio con Senago La pioggia Scimette del suo Accorcia la serie Tra Metalco, Dragons, Castellana E Verona Allora Vediamo un po' Nel girone A Il Parma Clima Conquista la qualificazione Alla Pusco Dette Con la decima vittoria stagionale A farne le spese E Poviglio Battuta al Comunale Del Cavalli Per 7-2 Con le belle prestazioni Di Costionopulos 2-5 A Storri 3-3 Per quanto riguarda La prestazione Nel box Parmenze Con la chiusura Di Contreras Sul Monte Fa doppietta Anche settimo Che rafforza La propria candidatura Al settimo posto Del girone A Mentre Cagliari Baseball Inciampa Contro Senago Cagliari Viene fermato A 5 out Potenziale Dalla fine di gara 1 Che si vede sfuggire Di mano alla vittoria A lungo controllata Nella partita importante Fine della classifica Che vede i cagliaritiani In piena corsa Per la Pusco Detto Senago Rispondeva con rabbia Nell'ottavo inning Segnando I 10 punti Che valevano I 10-5 Finale Nel girone B Derby veronese Tra Metalco Castellana Nel Tecno Vap Verona Che valeva Le posizioni di rincalzo Nel girone centrale Ad avere la meglio È stata Verona Che vince 11-1 Al settimo Inizia la paura Per gli scaligeri Che segnano 5 punti Nel primo indico Con 4 singoli Si portano 6-0 Poi però Verona si metteva E tirava il freno All'attacco Castell Franco Veneto Reagiva Arrivava la rimonta Poi La partita La vinceva Verona 11-1 Le qualificate Nel giugno Mi sono sancita Nella stessa serata Bologna Si impone 7-0 Al Ronchi De Legionari In casa Dei Black Panthers Ronchi E accede Ai punti finali Nel match esternale Il collecchio Prende il largo Nel secondo inning Con il triplo Di Alfieri Va a provare Ad allungare Rovigo non molla Ci provava Fino all'ultima valida Di Nicknosti Accorciava sul 5-3 Ma poi Il rilievo Maduro Chiudeva La partita Allora Vado A rileggervi Tutti i risultati Ma mi soffermo Sul girone di Dove La Spironia Deve soffrire Fino al nono Eravamo al settimo Sette pari Con Academy Nettuno Bravo a rientrare Dal vantaggio iniziale Grossetano Prima che la vende Di Jairo Ramos Trovi I due punti vincenti Del 9-7 Dunque Poi Nella gara 1 Vediamo quello Che ha detto Becagli Nel box Kelly 2-3 Albert 1-4 Due punti battuti A casa Barcelona 3-4 Un punto battuto A casa Herrera 2-5 Un punto battuto A casa Loardi 0-3 Un punto battuto A casa Capitano Nel Sinaurin 1-3 San Rocco 3-4 Due punti battuti A casa Ferretti 2-4 Un punto battuto A casa Vaglio 0-3 I lanciatori vincenti Cozzolino Hidalgo E Oberto In gara 2 Non c'è partita La Spirione Becagli Travolge Il Nettuno Academy Finisce 17-2 Sospensione Al sesto inning C'è la regola Nuova In A1 La sospensione Arriva Al sesto Spirione Solo 30 aprile Primo maggio L'ultimo turno Girone A Parma Clima Poviglio 14-0 Prima partita Giocata Venerdì 7-2 Campidoni Cotrino Oltre Torrente 10-0 Settimo inning 1-0 Senago Che batte In gara 1 Cagliari 10-5 Ma Cagliari Si prende La rivince La vince Gara 2 4-3 Settimo Torinese Brescia 6-4 8-1 La classifica Parma Clima 10-0 1-0 Settimo 6-3 6-6 7 Poi c'è Cagliari Campidoni Cotrino 5-20 4-5 555 Girone B Ronchi De Legionari Unipostai Bologna 2-16 0-7 Camer Collecchio Rovigo 5-1 5-3 Padova Sultan Cervignano 25-8 10 Pareggio Metalco Dragons Castellana Verona 1-11 Sospesa Con 2 Out Della parte Bassa Nel quarto Inning Sul risultato Di 2-3 La classifica Dice Di Unipostai Bologna 10-0 1-1 Camer Collecchio 9-1 900 Itua Itas Mutua Rovigo 5-5 500 Nel girone C Modena San Marino 2-4 0-4 I campioni d'Italia Trovano la prima resistenza Di un certo tipo Nel girone di qualificazione C Mediolanum Rimini Torre Pedrera 8-4 2-1 Godo Sala Baganza Non c'è gara Nella prima 17-1 Sospesa Al sesto 13-3 Sospesa Al settimo Voglio dire Se la I 10 punti Arrivano già al sesto Si interrompe In questo caso Una interrotta al sesto L'altra I 10 arrivano al settimo Ed è 13-3 Crocetta Longbridge Bologna 7-5 11-1 Qui la Il più 10 Si concretizza al settimo Dove si interrompe La partita San Marino 10-0 1-1 Godo 8-2 800 Modena Dice di 6-3 6-67 Nel girone di Athletics Bologna Ossain Macerata 2-7 0-14 Qui i più 10 I 14-0 Si paventa al settimo Spironina Becaglia Academy Netuno 9-7 17-2 Poi vediamo la Grande sorpresa Big Mat TBSC Grosseto Che va a vincere Gara 1 A Nettuno Per 2-3 E poi Nettuno Si prende La poderosa rivincita Vince gara 2 10-0 Qui la gara Va in archivio All'ottavo Ossainz Macerata Athletics Bologna 7-2 14-0 Comanda Spironina Becagli Grosseto 7-1 875 Già qualificata Per i play-off Ossain Macerata 6-2 7-50 Nettuno 1945 5-3 625 Come detto Ponte di Mazda Baseball Per il Big Mat BSC Grosseto Che Ne ho promosso In Serie 1 La prima Edizione Della Serie A Nazionale In due giornate Si tolgono I ragazzi Biancorossi Due grandi Soddisfazioni Vincono Gara 1 Allo Scarpelli Nel derby Grossetano Da tutto esaurito 3-2 Con il fuoricampo All'ultimo Istante Di Diaz Diaz E poi Vanno a vincere Gara 1 Niente po' di meno Che Che a Nettuno Per 3-2 Conducevano Anche 3-0 Academy Nettuno E Volpanaro Bologna Viaggiano Con una gara Vinta E 7 Perse A 125 Per quello Che riguarda Il campionato Di A1 Di softball Poca roba Da dire La quinta giornata Di andata Si completa Con la doppia Vittoria Del Bollate Squadra milanese Sul campo Della Sestese Due facili Vittorie E senza lasciare spazio All'attacco Delle Toscane Visto che La signora Nava Che sta All'ufficio Di Toscana TV Sono tre anni Che qualche volta Viene qui ospite Ma avessero dato Una maglia Qui questa volta Abbiamo la maglia Della Fiorentina La maglia Della Nazionale Di Besbon Con le firme La maglia Del Grosseto La mazza Le palline I cappellini Da Sestese Softball Niente di nulla Si racconta Solamente il giusto Inutile stare A perdere tempo Se stese Bollate 0-7 Se stese Bollate Gara 2 0-10 Per cui Questi sono Risultati Della squadra Di Sesto Fiorentino Non me ne vogliono Ma evidentemente A loro Non importa nulla Gesto di gratitudine Verso Stefano Ballerini O Firenze Viola Super Sport Che è l'unica Televisione Che trasmette Baseball In diretta Abbiamo fatto anche Gli incontri L'anno scorso Della Sestese L'unica televisione Nazionale Che c'ha un palinsesto Di venerdì Dove si racconta Tutti i risultati E le classifiche Dei campionati Di baseball E softball Evidentemente Ne è un grazie Di niente Passa per il dimenticatoio Va bene così Non è un problema Con Lecchio Saronno 5-7 7-2 Qui finisce In parità Poi abbiamo La Parma Nuoro 8-1 1-0 E poi Abbiamo L'ultimo risultato Forlì Castellana 11-3 E 8-3 Andiamo a vedere Le classifiche Qui ovviamente Ringrazio FIPS Punto it Che mi Pigiando il bottoncino Mi si Stanno Aprendo Le Classifiche In questo caso Della Serie A Di baseball Ho parlato troppo Pesso Si interrompe Non viene Non c'è Il proseguimento Del notiziario Dunque Va bene così Andiamo A vedere I risultati Delle Delle Squadre femminile Di A2 Dove Si dividono Il bottino Nel derby Toscano White Tiger Massa E 9 Pantale Lucca La squadra Di casa Al comunale Ugo Pisa Di Massa Vincono la gara 1-5 4 Lucca Prende la gara 2 Vincendo 3-1 Veniamo Invece A quello Che è Il notiziario Di aggiornamento Della Serie B Nazionale La Fiorentina Baseball Affrontava Al Pierpaolo Vita Baseball Stadium E possono partire Le immagini Allora Andiamo Innanzitutto A focalizzare Tre episodi Della gara Del pomeriggio Partiamo Da quella Più importante Il fuoricampo Di Andrea Biffoli La prima battuta Oltre la rete A Firenze Del capitano Della Fiorentina Baseball Che andiamo A farvi vedere La battuta di Biffoli E questa volta Cari miei Non la si prende Perché c'è Il fuoricampo Di Andrea Biffoli Aprite le finestre E laggiù Il fuoricampo Di Andrea Biffoli Peccato a basi vuote Solomer Come si dice Il primo fuoricampo Stagionale In casa Fiorentina E' quello Di Andrea Biffoli Che riceve adesso Il gimme fame Da tutto Il dugout Bianco Rosso Nero Bene Questo è il primo Focalizzato Poi Due episodi Che io Catechizzato Palle buone In campo Il triplo E non poteva essere Differentemente A destra Di Martin Perrex Orexis Che chiedo a Enrico Milano Di farvelo vedere Con lo slow motion La battuta E' a destra Purtroppo Siamo schiacciati Sulla destra Delle telecamere La pallina batte In quel punto E' O entro la riga O al massimo Anche sulla riga Buona Ma l'ho detto In diretta Gli arbitri Non ci hanno sentito E me l'hanno battezzata Fuori Poi Orexis Batterà Un singolo Ma lo stesso Orexis Nel turno Successivo Va a battere Una battuta A sinistra Dalla parte Del dugout Di Rimini Chiedo a Enrico Di farcela vedere Qui purtroppo Il tocco Nelle nostre immagini Qui in studio E' Si vede Alzarsi La nuvoletta Di terra Bianca La linea Su questa battuta Dalla tribuna Sentirete Stefano Ballerini Che comincia a gridare Era buona Se si alza La nuvoletta Bianca E' la linea E la linea Fa parte del campo Se si alza La nuvoletta Di terra rossa Vuol dire Che la palla E' fuori Ok Per cui Due battute Levati Un triple E un doppio Poi Orexis Si rifà Battendo un singolo Non ci sono problemi Non conta il risultato Abbiamo vinto 9 a 1 E 15 a 1 Per cui Battuta più Battuta meno Non importa Ma adesso facciamo partire La sintesi Le immagini prese Come le prendiamo Per raccontarvi Com'è finita Gara 1 Vinta Per 9 a 1 Gara 2 Vinta Al settimo inning Per 15 a 1 La media battuta 25 Nelle due incontri Sul 64 Fa una media Del doppio match Del 391 Poi andremo a darvi Le statistiche Con I risultati Del girone Con Fiorentina Junior Rimini 9 a 1 15 a 1 Fano Foggia 13 a 18 1 a 13 Cupra Montana Ravenna 18 a 9 1 a 11 Finisce 1 a 1 Potenza Picene Padule Schiantato per due volte Il potenza Dal Padule 0 a 8 3 a 15 Poi Nel girone di I Lancers Di La Strassigna Erano a giocare Sul diamante Del baseball Nettuno Lions I Nettunesi Si aggiudicano La prima partita 17 a 6 I Lastrigiani La seconda 13 a 3 Due sconfitte Pur Lottate Per i Bors Grosseto Che erano a giocare A Messina Messina Vince 8 a 7 E 11 6 Allora Di qui poi Andiamo a trarre Le due Partite Allora Andiamo a vedere Intanto Gara 1 Fiorentina Baseball New Union Rimini 9 a 1 La Fiorentina ha messo 0 su 4 E Sufi 1 su 3 Rassi Zadde 0 su 3 Gozzini 1 su 4 Libifoli Un solo Omeri Il punto Al quinto Zufal 1 su 3 Menoni 0 su 0 Orexis 2 su 4 Con le due Le due battute Rubate qui Krasnichi Gigi 0 su 2 Anichini 1 su 1 Nello Bravissimo 2 su 4 Un doppio Ciali 1 su 5 Sul monte Il trio Tagnaferi Krasnici Miglietta Con Il La gara 2 Che invece Vedeva scrivere Per la Fiorentina Nello 1 su 3 Rassi Zadde 2 su 2 Menoni 0 su 2 Menoni Ha cambiato ruolo Ha un problema Alla spalla Non lancia Si dedica solamente Al box Dove però Ovviamente Non aveva mai giocato E piano piano Si deve fare Le ossa Gozzini Viaggia Con Un 2 su 2 Con due doppi Biffoli 2 su 3 Con Poi abbiamo Krasnici Che viaggia 3 su 5 Un doppio Orexis 1 su 2 Anichini 0 su 2 E Torino Della nave Che Si festeggia Il compreanno Ha compiuto 18 anni Giocando la partita Nella gara Senale Scrive 3 su 4 Con un doppio Panichi 0 su 2 Ciali 2 su 4 16 su 30 Con 4 doppi Sul monte Zufal Banci E Sinforici Allora Siccome dobbiamo andare a significare Il compleanno Di Ettore Della nave Lo abbiamo Raggiunto Nel sottoscala Sotto le tribune Piccola intervista Al ragazzino Del Serbatoio Viola Bianco Rosso Viola Di cui Si cominciò a parlare Durante Il Playoff Finale A luglio Scorso A Senago Per cui A Senago Due anni fa A Senago Per cui Ettore della nave Per noi Per voi Per tutti Allora Ettore della nave Si compie 18 anni 3 su 4 In gara 2 Andiamo a 6 su 6 Andiamo a giocarci La supremazia del girone Sabato a Padule Dove trasmetteremo Le due gare Ancora live Sul 196 Impressioni E' una bella fiorentina Mi sembra no? Quest'anno Siamo veramente Una grande squadra Abbiamo già raggiunto Le 6 vittorie E non si vedeva Da tanto tempo Qua a Firenze Quindi speriamo Di Domenica Di conquistare Un'altra doppietta E restare in vetta Al girone Senti Due appuntamenti Casalinghi Due vittorie Più quella In terra di Marche Abbiamo lasciato Per ora Solamente Forse la prima gara Dell'esordio A Ravenna Vinta 6-5 Il resto Abbiamo distribuito Vittorie Senza mai patire Gli avversari Per cui segno Che stiamo crescendo Bene E stiamo crescendo Nei tempi utili Per Giocarci qualcosa Di importante A fine campionato Naturalmente E' stato Un grande lavoro Quello dell'anno scuola Allora Riprendiamo Piccolo problema Tecnico Vai Naturalmente L'unica partita In cui abbiamo avuto problemi E' stata la prima Corra Venna Perché è una delle squadre Che potrà contendere Con noi Per la supremacità Del girone E ringrazio È apprezzabile molto Il lavoro di Gigi Gozzini Dell'anno scorso E ci ha preparato Per poter Magari Ritornare Quest'anno In Serie A Infatti Per ora La classifica E le vittorie Ci vedono Come Primi nel girone Sta a noi Poter Dimostrare Il nostro valore E vincere Contro Padule E Foggia Le altre due Favorite Per il primo posto Buon compleanno Carissimo Grazie di tutto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti 3 punti Un doppio 4 punti battuti a casa 333 Ettore della nave Eccolo 3 su 10 2 punti 2 punti battuti a casa 300 pari pari Riccardino Manci Viaggia a 500 Ma l'ho messo dopo Perché ovviamente C'ha 1 su 2 Con un punto battuto a casa Troppo semplice Sarebbe Che lo posizionassi In testa della classifica Viaggia A 500 Martin Perix 6 su 21 Con 4 punti 2 punti battuti a casa Gli hanno rubato Un triplo a destra E un doppio a sinistra Vi ho fatto vedere I fermi Immagine Ho sempre ragione io E ho mandato Due frame Alla FIBS Poi Viaggia lui a 286 Vale molto di più Tommy Gozzini Stessa cosa dicasi 6 su 21 7 punti 2 doppi 4 punti battuti a casa 286 Anichini 1 su 4 1 punto 250 Zufal 3 su 12 Già tanto che mi fece vincere Gara 1 Contro In Ravenna 6-5 La sua battuta valida 1 punto 3 punti battuti a casa 2,50 Francesco Ciali 4 su 19 4 punti Un doppio 3 punti battuti a casa 2,11 Estufi Il peggiore Di quelli titolari Lui difende la seconda base 2 su 19 5 punti Un doppio 105 Akram deve farmi assolutamente di più Chiude Tommaso Panichi 0 su 6 Un punto Battuta a casa Andando a Idealmente Come se domani E fra un'ora Iniziasse la partita Tra Padula e Fiorentina La Fiorentina Viaggia 57 su 194 52 punti Segnati 10 doppi 0 tripli È un fuoricampo 40 punti battuti a casa La media battuta è di 294 Padula e Fiorentina Ha uno score assolutamente migliore 80 su 220 80 su 220 70 punti Allora 80 su 220 Contro 57 Su 194 70 punti rosso-blu 52 della Fiorentina 14 doppi Sesto 10 doppi Firenze Un triplo Sesto Fiorentino 0 tripli La Fiorentina Due fuoricampi Il Padule Uno solo La Fiorentina Quello di Biffoli 40 punti battuti a casa Per Firenze 59 per il Padule Dunque È un derby Ostico Grandissime la rivalità Tutti amici E Padule Ci arriva Con uno score Nettamente superiore La media battuta Di Padule È 364 Quella della Fiorentina Inferiore 294 Andiamo A darvi anche I risultati Dei match Della Serie C Ci arrivo Un attimo Di calma Perché devo andare A Prendere tutto Quello che serve La settimana scorsa Non fu giocato Nessun incontro Per il maltempo Questo weekend Padule Franchigio a Firenze 6-12 Avremo cominciato bene Franchigio a Firenze Fiorentina Antella E Se ricordo bene Cosmo San Casciano Ma non vorrei dire Una cavolata Arezzo Dolphins Anzio 6-8 Roma Bruel Siena 23-9 Livorno 9 Pantane Lucca 21-1 Drake Scapanno Rimassa 7-6 Poi A Firenze Vene il discorso È stato presentato L'iniziativa Premio Fair Play A Firenze Erano al tavolo Della Presentazione Vic Luciani Marina Centrone Testimonia Della FIBS Ho scoperto Di aver ricevuto Una mail Però che è finita Sulle mie spam E io ho Un automatismo Che Spam uguale Vuol dire Eliminazione Siccome ho una copia Delle mie mail Presso la mia amministrazione Mi hanno informato Che hanno trovato Una mail Di un amico Che mi aveva invitato Alla presentazione Di questa Iniziativa Firma di Città Metropolitana Di Firenze Presentata Venerdì 29 Aprile Al Palazzo Medici Riccardi Premio Fair Play Educare Tifando Dove si parlava Di Baseball Dove C'erano state Le presentazioni Di Nicola Armentano Domenica Lapenta Gianni Taccetti Giovanni Paolo Innocenti Con Vic Luciani Storia del Baseball Italiano Le società Coinvolte Che disponono Campionati Under 12 13 Nella città Metropolitana Di Firenze Antella Baseball e Softball Chianti Fiorentina Baseball Firenze Softball Lancer Baseball Polisportiva Padule Baseball Softball Dal 7 Maggio Ovvero sia Da domani Fino alla fine del campionato Naturalmente Senza preavviso Per poter valutare Il Fair Play Potrà capitare Di vedere Una coppia Di atleti Di altre discipline E valutare Il valore Dei nostri genitori Il comportamento Dei ragazzi Dei tecnici In campo Di Padule La Strassigna Firenze Bagnaripoli Al nostro Vic Testimonial Per il Sopro E' stata scelta Insieme A Città Metropolitana Per rappresentare La FIP Nel progetto Marina Centrone Toccheranno Invece Alcuni Dei campi Di altre discipline Calcio Basket Pallavolo Pallamano Reggio Pallamano Vinca Vinca Il migliore Ma soprattutto Vinca Il fair play Dico Mi mandi una mail E non è certificata Rischi che a me Non arrivi Organizzate cose Del mondo E del baseball Per voi Completamente Sconosciute Io faccio Baseball Soffro Dal 1975 Da calcoli Approssimativi Dovrei aver commentato Al microfono Dello stadio comunale Del baseball Di Firenze Adesso Per Paolo Vita Baseball Stadio Circa 2755 Partite Più gli anni Di televisione E radio Non mi alzi Un telefono E non mi inviti E non mi fai Sedere al tavolo Della presentazione Mi faccio Un nodo Grande così Al dito Me lo ricorderò Fino alla fine Dei miei giorni E quando Probabilmente Deciderò Di fare una cosa Questo fatto Ha influito Pesantemente Negativamente Delle decisioni Che io prenderò Tra circa Dieci giorni Va bene Non inviti E non alzi Il telefono A Stefano Ballerini Unica voce Del baseball E softball In Firenze In Toscana Probabilmente In mezza Italia A parte FIP TV O qualsiasi Altra cosa Zero A Firenze E in Toscana Ci sono solo io Baseball E softball In diretta La trasmissione Del diamante Faccio delle cose Che nessun altro Giornalista Si può Mettere In mente Di fare Ok Me la sono Fiocco Dalle iene Me la sono Legata al dito Va bene Chiudo Con questa Purtroppo Verifica Di quello Che è successo Disinteresse Totale Vedrete Che cosa Io potrò Combinare Perché qui Qui Comando io E qui Decido io Che cosa Si fa O eventualmente Che cosa Si potrà Non fare Mai più Chiaro Dovrete Portarvela Sulla coscienza Siete Siete Dei personaggi Che siete Gelosi Di quello Che io E la mia Televisione E le mie Testate Fanno Dal 1975 Dico Senza falsa Modestia Che io Seguo 15 sport Al giorno A livello Fiorentino Toscano Nazionale Mondiale Insieme a Paolo Caselli Sui giornali Dieci articoli Di dieci Sport Vi servono Dieci giornalisti Dei quali Perlomeno Cinque Non si vedono Mai su nessun Terreno di gioco Avete fatto Firmare A una collega Della nazione I rendi conto Degli ultimi anni Di Fiorentina Baseball Quella signora Non faccio nome e cognomi Perché sono un garantuomo Non si è Mai vista Allo stadio Del baseball Di Firenze Mai Mai vista Allo stadio Del softball Che sia Via Mezzetta O che sia Firenze Con il campo di rotto O che sia Sesto Fiorentino Non si è Mai Palesata Ok Bene Se io deciderò Di fare una cosa Prenderò lo spunto Da questa ultima Grandissima Delusione Città metropolitana Di Firenze Lo so Siete arrabbiati con me Io vi seguo Tutti i giorni Dell'anno Vi ho Letteralmente Sbugiardato Ogni cosa Che dice Dario Nardella Io lo sbugiardo Dopo 30 secondi D'orologio È chiaro Quando uno Apre la bocca E dice delle cose Dovrebbe verificare Se la bocca È collegata Al contempo Con il cervelletto È chiaro Buttare parole Fuori dalla bocca Solo per far uscire Aria Non serve Il giornalismo È il giornalismo O si parla Perché si è competenti Non si inventa nulla È chiaro Messaggio lanciato Vedrete quello Che potrà succedere Da Stefano Ballerini Per questa puntata Del Diamante Numero 9 Edizione 2022 Tutto Domani Sintonizzatevi Alle ore 14.50 Sul canale 194 Io ho due canali Lavoro in diretta Sportiva Sull'uno 196 Su quell'altro 194 Ok Per cui Io solo Trasmetto Sport in diretta In Toscana Città metropolitana Comune Assessorato allo sport Mettetevelo nel cervelletto Grazie Linea Alla regia Grazie Enrico Per la solente presenza Sempre al mio fianco A farvi vedere I prodotti Le interviste Anche i fermi immagini Che ci manda L'ottimo Eric Piton Con Moreno Vastallo Eric Piton Vi diamo l'appuntamento Domani da Padule Sesto e Frentino Ore 14.50 Tempo Permettendo Linea allo studio Grazie E buon weekend A tutti Grazie a tutti Grazie a tutti